musica e bella a tutti ragazzi e ragazze bentornati in questo nuovo video sono JK e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Minecraft Bad Wars da soli perchè purtroppo MK ancora non ha il PC comunque state tranquilli perchè fra poco arriverà anche lui e faremo le Bad Wars quelle fatte bene e niente raga adesso entriamo nelle Bad Wars e vediamo di fare qualcosa di decente allora anche se sono da solo voglio provare a fare una partita in team da due perchè mi piace molto quella mappa e devi guardarti sempre alle spalle mi piacciono giochi con molte squadre perchè diciamo una squadra contro un'altra non mi piace per niente perchè c'è capito non ti da molto gusto devi preoccuparti solo di una persona invece così devi guardarti le spalle da tantissima gente e a me sinceramente piace di più come modalità di gioco ora avevo invitato un ospite però purtroppo non poteva venire questa mattina e io purtroppo devo registrare adesso perchè dopo non posso ok il mio compagno sembra avere un minimo di interesse a vincere ok andiamo subito a prendere nell'isoletta qua centrale a prenderci subito il ferro non mancano dei blocchi io ho già fatto il ponte e mi sono già preso questi bellissimi svegissimi nove pezzi di ferro aspetto il decimo e vado in base a farmi l'armatura quella da sette che la preferisco tantissimo armatura da sette e poi tutto il set così e la spada da tre perchè mi piace allora poi direi di prendere almeno quattro pezzi di ferro come minimo e mettiamo del legno sul letto così una bardatura ce l'abbiamo ragazzi e evitiamo che ci rasciino perchè così siamo molto rasciabili ovviamente blocchi facciamo otto pezzi di legno che sono giusti per bardare il letto e poi sopra magari un minimo di lana ok i veri sono stati distrutti bene ok ho fatto una bardatura comoda ho fatto la sandstone ma va bene ci sta distruggendo un ponte oddio che paura ho sbagliato a fare la sandstone ragazzi pardon oh minchia mi metti una caga gialluca 2030 cosa sei del 2030? guarda l'amica mia grande GG combatti combatti zia combatti guarda qua guardalo lì madonna c'è l'immunità c'è l'immunità per 3 secondi è caduto di sotto perfetto allora se avete notato GG intanto scrivo alla mia compagna GG se avete notato mi ha droppato un lingotto di oro con questo lingotto di oro ragazzi io posso andare a prendere un arco e delle frecce io spadroneggio con arco e frecce ora c'è bisogno però di andare al centro urgentemente abbiamo tolto di mezzo il team di fianco a noi e il che ci permette di avere due basi due di tutto insomma due no si più generatori di ferro comunque un sacco di roba in più ora il punto è bisogna andare al centro per andare al centro ragazzi io non vi consiglio minimamente di passare dall'isoletta questa qui cioè quella lì perché comunque hanno un accesso più diretto alla vostra base io vi consiglio di partire da qua dall'isoletta a fianco a voi che avete conquistato se non l'avete conquistata partite dalla vostra perché comunque è più facilmente difendibile perché se no loro attestano fanno una testa di ponte su quell'isola lì e non rischiò di più che sposa una pecora e là c'è un giallo minacciosissimo aspetta tu cadere non ha laggato preso non è morto mannaggia ops l'ho ucciso ve l'avevo detto che sono forte con l'arco ragazzi l'ho ammazzata lol cioè l'ho l'ho ucciso da casa mia praticamente c'ha l'arco c'ha l'arco c'ha l'arco c'ha l'arco c'ha l'arco andiamo madonna salitissima mi stava ammazzando incredibile ok decente suoto quindi guarina andiamo guarina che cazzo di dom'è guarina si magari se non mi fai il pillar così di fronte mi fai un favore ragazzi vabbè attaccalo attaccalo io subito uè chi è che ha le frecce infuocate il blu eh ti pareva ok grande i gialli grandissimi gialli che me li hanno distratti abbondantemente devo andare a distruggere ecco bravi bravissimi i gialli siamo noi i rossi i gialli e i blu noi siamo quelli messi peggio perchè non abbiamo loro ok mutismo 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 so ok un istantaneo piazzato quella qui ue 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 au che minchia uo ue au merda ue di tappi di tappi 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 dov'è oh minchia minchia eee tua mamma ah l'ho ucciso l'ho ucciso no era l'altro che era arrivato cazzo ma la tnt avrebbe dovuto distruggere il loro ponte no allora calmi ragazzi calmi ce la possiamo ancora fare abbiamo scarsissime possibilità perchè non abbiamo oro io non ho l'arco e questo già è un punto proprio avvantaggissimo degli altri ok il giallo è morto il giallo è morto il giallo è morto perfetto sette di oro ben sei uno o altri dai 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 deve che arrivi qualsiasi persona ok i gialli stanno facendo non so cosa però ci sono i rossi stanno rimando rossi quindi stanno distraendo male sì ma lì c'è un blu sono i blu con i fresi io scappo dai rossi io scappo dai rossi perfetto minchia minchia va 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 io sono fuori base vero quindi quegli altri potrebbero tranquillamente entrare ewewewe no nervoso mi butta mi ha buttato giù col piccone col piccone dov'è la tizia è la fortuna dai guarina arrivo l'ha ammazzato e il red devil ha distrutto i gialli ok ok schilliamo i blu ok no tu mi ero te cazzo ti devi allora tra l'altro ragazzi una roba che non vi ho spiegato è perché mi chiamo zexar invece che jk perché era il mio vecchio nick e ancora non l'ho cambiato non l'ho cambiato su minecraft e quindi c'ho sempre questo ok sono riuscito a tornare a casa prendiamoci subito l'arco da 7 e subito la spada quella buona da 3 ok perfetto ora ho 20 frecce non mi sposto più dalla base ragazzi sto qui ammazzo quel blu e lagga leggermente ragazzi quindi uoh 32 la miseria ok le pecore kamikaze ragazzi hanno un'utilità proprio devastante vediamo alla tizia magari rinascere con il stretto tieni dai guarina perfetto ammazza sto gladi perfetto grande killiamo il blu andiamo ok ok eh eh vuole qui minchia ciao voladi minchia oh c'ha nato che un voladi minchia mi Socca Ups Non ci credo Non ci credo Arancioni e rossi L'ho ucciso Madonna sopra morire Preso Socca Lo sapevo che era giusto a giochetta Non ci credo Cosa ho mancato Dai Madonna mia che culo Dai guarina Cazzo fa Penso che io non l'arco Abbiamo vinto No io non ce l'avevo più letto GG Abbiamo vinto Bellissimo Ragazzi Cioè prima partita Si vince easy Cioè no easy no Però la si vince Niente Ho fatto poco commento Perché comunque Ero concentratissimo Sul gioco Però bellissima ragazzi Bellissima E Niente ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Mi raccomando Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Spolliciate come l'andati E niente Adesso si becca Domani Poi ci vediamo In un prossimo video Ciao